Ciao, sono l'inglese cicliste. L'ultima settimana ho fatto Lignano-Sabbiadoro-Verona sulla mia nuova bicicletta, e tomorrow ho dovuto tornare, quindi la ride sarà Verona-Lignano-Sabbiadoro, ma questa volta seguiremo una nuova ruta passando da Padova e Mestre e poi da Lignano. Tutto è pronto, il mio sacco, due botte, ovviamente l'elmetto con gli occhi, il bicicletta, un tubo di bicicletta, un secondo tubo, una masca con il pieno e alcuni punti, perché in alcune parti di Veneto devi pagare per ottenere l'acqua, E-Trax 30 per navigare, Garmin 520 per registrare la mia ride, due batterie extra per l'action cam, power bars, nuts, altre power bars, bananas, backlight, frontlight, e la bell. Il mio progetto è riuscire a 5 am e poi essere sul cattolo a 6 am. Ci vediamo domani. Buongiorno. In angli cyclist, we can start to get the Lignano-Sabbiadoro. 235 km to go. This is the best tire service in Perù. It's 7 am. Here we are in Solave. In this moment, I am between Gambellara and Lungara, I think. And this is gonna be the only climb of the day. I have to say, not a stupid climb. 17% just to wake up the legs. Nice bike path in Secula. Sunflower. 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 Trust me that this one is the best gelateria in Padova. Gelateria Sole Luna. I remember that bridge. You can click on the link to see the Explorers Baptist. 117 km to go. 117 km to go. I'm right in the middle of the ride. One of my best teachers at UOV, the University of Architecture in Venice, was Foscari. I'm in Laguna and over there, Venice. As you can see, the wind is blowing in the mountains. in that direction. And of course, I have to go in that direction. Mood of the day. Keep straight. By the way guys, I'll leave you the GPX file in the description below. But don't do this track. Or better. It's a good track from Verona to Mira. Stop. After Mira, don't do this track. And again, keep straight. Finally, I'm in Lignano. See you for the next ride. Bye bye.